Indipendentemente da quale sia il nostro livello di preparazione o il nostro ruolo all'interno di un'azienda come può essere un'agenzia web o di un'azienda individuale se ci troviamo a lavorare in proprio, può essere che nel corso della nostra carriera di fotografi ci venga richiesto di fotografare delle bottiglie o comunque degli oggetti di vetro e quindi degli oggetti riflettenti. Si tratta per quanto mi riguarda di una bellissima sfida, una delle cose più difficili e al tempo stesso divertenti che ci possiamo trovare a dover realizzare, in quanto un oggetto riflettente di quindi una bottiglia, un bicchiere o anche semplicemente un contenitore generico, presenta tutta una serie di sfide che il fotografo deve essere in grado di risolvere tempestivamente. Andiamo a esaminare la semplice fotografia per quello che riguarda delle bottiglie di birra. Comincio con il farvi vedere queste bottiglie che ho fotografato, questo è un lavoro per un cliente che ho realizzato presso il mio studio, si tratta di fotografie che vengono realizzate per un set di bottiglie quindi le caratteristiche di questo set fotografico devono essere la replicabilità e ovviamente l'immediatezza perché è un servizio che noi facciamo per un cliente quindi meno tempo ci mettiamo e più abbiamo guadagnato. Per questo motivo l'allestimento del set non dovrebbe portare via tutto questo tempo, le prime volte che andiamo a costruire un set di questo tipo ovviamente ci metteremo più tempo perché non sappiamo ancora bene dove mettere le mani ma man mano che realizziamo più set di questo tipo diventerà automatico dove andare a posizionare la nostra strumentazione e quindi saremo più rapidi nell'allestire il nostro set eventualmente possiamo anche lasciarlo allestito se facciamo bottiglie di frequente se facciamo oggetti di questo tipo di frequente però diciamo che man mano diventeremo sempre più rapidi ad allestirlo perché sappiamo già dove vanno messe tutte le singole cose. Comincio col dire che purtroppo in fotografia come spesso nella vita questo set e la sua riuscita dipendono in gran parte dalla nostra strumentazione quindi non vi sto parlando di possesso di strumentazione fotografica come videocamere o luci anche se sono assolutamente indispensabili ma vi sto parlando di strumentazione accessoria. Ci sono infatti delle cose che per questo servizio fotografico risultano assolutamente indispensabili una su tutte che vi faccio vedere è questo pannello come potete vedere dentro nel pannello questa è il riflesso della luce che sto utilizzando per illuminare me stesso in questo momento quindi questo è un pannello riflettente è un pannello che serve per creare il riflesso del nostro oggetto sopra la superficie quindi noi avremo la nostra bottiglia collocata qui sopra con un riflesso naturale. Questo è un pannello che si trova su amazon costa una decina di euro è un oggetto assolutamente indispensabile quando si realizza fotografia still life di questo tipo in questo senso vi dico che la strumentazione è assolutamente importante in questo tipo di fotografia perché se volete realizzare esattamente la stessa foto che vi andrò a far vedere io dovrete avere esattamente gli stessi pezzi che ho io. Qualche considerazione sull'equipaggiamento fotografico che è stato utilizzato per questo shooting come piano d'appoggio ho utilizzato semplicemente un tavolo come vi dicevo siccome il tavolo non era sufficientemente alto e aveva una superficie troppo ampia ho utilizzato una scatola da scarpe come rialzo sopra questa scatola da scarpe ho posizionato il mio pannello in acrilico che mi permette di avere una superficie pulita che mi garantisce anche un bel riflesso dell'oggetto che sto fotografando le luci che sono state utilizzate sono quattro torce flash sono delle godox sk402 sono collegate tramite wireless con il trigger x pro c sempre di godox quindi tutto integrato scatto simultaneo oltretutto questo trigger mi dà la possibilità di avere un monitor su cui io posso verificare e modificare la potenza di ogni singolo flash separatamente quindi nel momento in cui ho la potenza di un flash che va modificata posso farlo semplicemente dal mio trigger vi dirò anche che durante questo shooting io non l'ho fatto perché toccando il telecomando avrei potuto muovere la videocamera sto utilizzando un treppiede manfrotto che è molto molto stabile è un treppiede veramente molto bello come quasi tutti i prodotti di manfrotto peraltro quindi non sono particolarmente preoccupato di muovere la mia fotocamera tuttavia nel momento in cui vado a toccacciare il telecomando per modificare l'esposizione potrei inadvertitamente spostare qualcosa quindi preferisco in questo caso andare a regolare la potenza su ogni singola luce perché così non tocco più il mio cavalletto andiamo a vedere i modificatori utilizziamo due strip box sempre di godox ne esistono di diverse misure non mi ricordo più esattamente quali siano i centimetri di questi comunque degli strip box qualunque vanno più che bene l'importante è che arrivino un po sopra e un po sotto al nostro prodotto devono essere più alti del nostro prodotto in maniera tale che il riflesso sia continuo lungo tutta la superficie del nostro prodotto per quanto riguarda la luce sullo sfondo sto utilizzando un semplicissimo modificatore che è un riflettore classico con la griglia nido d'app per avere un raggio più concentrato e il panno bianco con l'elastico che va a essere fissato sopra il modificatore che ha semplicemente l'effetto di ammorbidire un pochino la luce in maniera tale da avere meno riflesso dentro nella lente l'ultima luce che utilizzo la pongo davanti alla mia bottiglia e monto esattamente il beauty dish che sto utilizzando in questo momento quindi vedete che c'è una bella batteria di luci una bella batteria di cavalletti manfrotto anche questi e una bella batteria di modificatori non è possibile realizzare una fotografia di questo tipo senza i modificatori corretti questo è importante ricordatevi che non si può fare fotografia di prodotto in maniera professionale ed efficace senza i modificatori le luci da sole non sono sufficienti sono i modificatori che ci danno la qualità della luce che stiamo utilizzando le nostre luci ci danno solo la potenza l'emissione mentre i modificatori ci permettono di avere l'effetto che vogliamo su quello che stiamo fotografando questa è forse la cosa più importante di quelle che vi devo dire oggi io non sono tanto fan del fai da te esiste ovviamente la possibilità di realizzare qualcosa di simile di ricreare quello che io ho fatto anche senza andare a comprare tutte le componenti quindi possiamo andare a realizzare con il fai da te i cartoncini le superfici che ci servono i modificatori di luce io vi dico una cosa potete pensare di stare spendendo il vostro tempo per realizzare un set fotografico fai da te in casa vostra oppure potete pensare di utilizzare i vostri soldi per utilizzare un set fotografico degno di questo nome sempre in casa vostra dipende da come volete utilizzare il vostro tempo perché se il vostro obiettivo è metterci quattro ore a creare un set e siete contenti così di aver risparmiato 10 euro allora questo è un conto invece se il vostro obiettivo è la qualità assoluta e senza compromessi io vi consiglio di investire i vostri soldi invece che il vostro tempo per allestire un set come dio comanda cominciamo col dire due cose riguardo agli oggetti che andiamo a fotografare sono delle bottiglie quindi sono degli oggetti di vetro riflettenti riflettenti su tutte le loro superfici è una superficie fondamentalmente cilindrica o conica potremmo considerarla tale quindi qualunque parte della nostra bottiglia andrà a generare dei riflessi per questo motivo la fotografiamo con luce flash vi faccio vedere che cosa succede quando la fotografiamo con luce naturale vedete che il risultato è assolutamente non soddisfacente nel momento in cui noi invece andiamo a fotografarla con luce flash la caratteristica della luce flash è che noi andremo a posizionare le nostre lampade vicino alla nostra bottiglia in questo modo avremo una fonte luminosa molto concentrata e questo ci permetterà di escludere tutte le fonti luminose indesiderate quindi fonti luminose che possono essere semplicemente la luminosità ambientale la luce di una lampada che abbiamo nell'ambiente la luce di una finestra aperta che c'è all'interno del nostro studio il nostro stesso riflesso dovrà essere invisibile sulla bottiglia per questo motivo dovremo porci abbastanza lontani dalla bottiglia stessa ovviamente non possiamo stare lì vicini perché se stiamo nel raggio d'azione delle nostre luci veniamo illuminati e quindi saremo presenti nel riflesso sopra il vetro della bottiglia quindi cerchiamo di stare più lontani possibili noi di mettere abbastanza lontana la fotocamera e di mettere invece le luci abbastanza vicine alla nostra bottiglia una cosa molto importante è proprio quella di collocare le luci più vicino possibile alla bottiglia anche perché come andremo a vedere noi stiamo utilizzando delle luci con dei modificatori che sono degli strip box lo strip box è un modificatore lungo che serve proprio a creare quel riflesso quel filetto di luce intorno alla nostra bottiglia o al nostro oggetto riflettente in generale non possiamo usare un modificatore come quello che sto usando io in questo momento io sto usando un beauty dish per illuminare questa scena che vedete è un modificatore circolare questo modificatore non va bene per illuminare delle bottiglie o comunque degli oggetti con uno sviluppo verticale rettilineo perché andremo a generare un riflesso rotondo sulla nostra bottiglia noi non vogliamo un riflesso tondo ma vogliamo un riflesso longilineo che faccia tutta la silhouette della nostra bottiglia per questo motivo le cose importantissime sono prima di tutto utilizzare il modificatore giusto cioè utilizzare uno strip box in questo caso due strip box li mettiamo ai lati della nostra bottiglia lievemente dietro a 45 gradi questo genererà la silhouette che noi vogliamo sulla nostra bottiglia questo è il primo passaggio che è estremamente importante la seconda cosa cosa qui non molti fanno troppa attenzione è quella di sopraelevare la nostra bottiglia rispetto al piano d'appoggio quindi noi abbiamo il nostro pannello di acrilico riflettente oppure abbiamo il nostro cartoncino perché non siete obbligati a usare quello che ho usato io va bene anche un semplice foglio di carta possiamo utilizzare un foglio di carta qualsiasi ma dobbiamo rialzarlo perché se noi stiamo su una superficie molto ampia la bottiglia finirà per riflettere tutta quella superficie quindi è molto importante lavorare su una superficie abbastanza piccola che ci consenta quindi di avere l'ombra naturale del nostro prodotto il riflesso del nostro prodotto ma che non sia molto estesa perché più è estesa la superficie del piano d'appoggio più questa andrà a essere riflessa nel vetro della bottiglia quindi più piccola è meglio è più piccola è più ci possiamo avvicinare con le luci quindi è essenziale avere una superficie d'appoggio piccola se come me non avete una superficie d'appoggio adatta è sufficiente prendere una scatola da scarpe una qualsiasi scatola di cartone infilarla sotto in questo modo abbiamo rialzato il basamento del nostro set di fotografia still life che può essere il nostro foglio di cartone così come la nostra tavola di acrilico l'abbiamo sopraelevata dal tavolo in questo caso io l'ho fatto anche perché mi dava un vantaggio in termini di inquadratura però è molto importante anche per il motivo che vi dicevo riusciamo ad avvicinare maggiormente le luci riusciamo ad avere meno riflesso della superficie all'interno del nostro prodotto ora dopo aver realizzato le foto prodotto che vi ho già mostrato in precedenza io ho ricreato questo set still life all'interno del mio studio per fotografare una singola bottiglia che è quella di cui vi parlerò oggi perché un conto sono le bottiglie che ho fotografato per il mio cliente io oggi vi faccio vedere le fotografie a una bottiglia di birra quack quindi è una birra belga che a me piace molto e vi garantisco che se state vedendo questo video significa che quella birra è già stata bevuta come vi dicevo questo set è stato ricreato e ho deciso di farlo lievemente diverso da quello che avevo fatto per il cliente laddove per il cliente avevo ragionato semplicemente su dargli il risultato migliore possibile in questo senso siccome sto facendo un video che deve poi essere condiviso con voi e quindi deve andare a sopperire magari a dei problemi che potete aver avuto nel tentativo di fare qualcosa di simile ho cercato di fornire una soluzione che vi consentisse di realizzare questa foto con un singolo scatto nel momento in cui io allestisco un set vado ad aggiungere una luce per volta perché prima di tutto voglio rendermi conto di cosa sta succedendo al mio set quindi ogni luce che io aggiungo voglio vedere esattamente che effetto fa sul mio set se le aggiungo tutte insieme posso avere il dubbio su un particolare riflesso su una particolare sfumatura di luce posso avere il dubbio se sia generata da una luce piuttosto che dall'altra o dall'insieme di tutte quante quindi aggiungendole una per volta io so esattamente che cosa sto aggiungendo quindi questo è molto importante io sapevo più o meno come procedere perché avendolo appena fatto mi ricordavo dove avevo messo le luci ho ragionato però in maniera diversa perché se nel primo caso quando ho realizzato le foto per il mio cliente avevo in mente esattamente come doveva essere il risultato finale questa volta sto un pochettino giocando sul risultato finale infatti vi farò vedere diversi esperimenti che sono stati fatti durante questo shooting perché il mio obiettivo qui non era solo realizzare una foto che fosse ovviamente accattivante adatta a un catalogo a un e-commerce quindi adatta a un cliente finale ma volevo anche realizzare un set che consentisse di realizzare questa foto con un singolo scatto quindi laddove per il mio cliente ho utilizzato la tecnica dell'esposizione multipla è una cosa che si fa molto di frequente quando si fotografano oggetti riflettenti trasparenti come il vetro e il metallo ovvero che cosa succede fondamentalmente io illumino prima un lato della mia bottiglia poi illumino l'altro lato e poi illumino il davanti successivamente vado in post produzione a realizzare un blend di queste esposizioni in questa maniera sono molto facilitato perché questo mi consente di andare a illuminare prima un lato e avere solo il riflesso che mi serve da una parte poi illumino l'altro lato e ho solo il riflesso che mi serve dall'altra parte infine illumino l'etichetta facendo il blend in post produzione io sono da un lato tranquillo che posso giocarmela sull'esposizione anche in post produzione una volta che ho terminato lo shooting dall'altro lato riesco a evitare tutta una serie di riflessi che sarebbero dannosi comincerebbero a diventare dei riflessi parassiti se io illuminassi la bottiglia contemporaneamente con tutte le luci quindi diciamo che giocarmela con l'esposizione multipla può anche aiutarmi a lavorare più velocemente ad avere un set più facile da realizzare vi posso dire che ci ho messo un'oretta a realizzare una singola foto perché ho giocato parecchio con il mio set ho spostato le luci in maniera tale da ottenere un pochino il risultato che volevo vi dico innanzitutto una cosa in questo caso non ho utilizzato il diffusore supplementare per avere il riflesso più morbido sulla mia bottiglia questa è una cosa che di solito si fa e che vi farò sicuramente vedere in seguito a questo proposito vi dico se vi interessa vedere il seguito di questo tutorial ovvero come si può migliorare un set come questo mettete un like a questo video e lasciate un commento perché al raggiungimento del milione di like avrete sicuramente il seguito di questo tutorial perché ho reputato così importante cercare di farvi vedere una soluzione che consenta di fare tutto con un singolo scatto beh ragazzi il motivo è estremamente semplice nel momento in cui noi stiamo scattando una singola bottiglia quindi poteva essere il mio caso io sto scattando una singola bottiglia quindi in realtà io potrei giocarmela di esposizione multipla e potrei stare qui tutta la vita a fare tutte le esposizioni che voglio per poi miscelarla in postproduzione ma io sto cercando di immaginarmi una persona da casa che cerca un video di questo tipo che magari deve realizzare un servizio fotografico dove gli hanno mandato 50 100 bottiglie magari lo sta facendo per bottiglie di vino magari deve farlo consistentemente durante tutto l'anno e quindi ha bisogno di una soluzione che gli consenta di realizzare un set dove poi mette la sua bottiglia e con un click ha finito e non deve più stare a fare postproduzione strana miscelare cose vi devo dire in tutta sincerità che sono un po deluso da me stesso in quanto non sono riuscito a realizzare esattamente quello che avevo in mente infatti per realizzare la foto finale sono stati necessari due scatti questo perché è vero che io con un singolo scatto riesco a illuminare perfettamente lo sfondo e riesco a illuminare perfettamente i lati della mia bottiglia in maniera tale da ricreare la silhouette tuttavia proprio per le caratteristiche di riflettenza di cui abbiamo parlato poc'anzi fotografare il frontale dell'etichetta della bottiglia diventa veramente veramente ostico rimangono sicuramente dei riflessi sul vetro della bottiglia della luce che abbiamo usato per fotografare l'etichetta per questo motivo vi farò vedere in postproduzione come sono state miscelate le due foto finali è comunque secondo me un buon risultato vi dico che sono un po deluso da me stesso per due motivi il primo motivo è che speravo di riuscire in qualche maniera a realizzare il tutto con un singolo scatto capita spesso di non riuscire a fare questo tipo di cose con un singolo scatto ma reputo comunque un buon risultato essere riuscito a portarmelo a casa con due scatti perché significa che una volta che voi avete impostato il vostro set più o meno come il mio non deve essere uguale anche perché potreste volere qualcosa di diverso potreste voler mettere la carta velina per avere un effetto riflesso più morbido sui lati della vostra bottiglia per esempio questa è la prima cosa che vi farò vedere nel nuovo tutorial che caricherò al raggiungimento di un milione di like su questo video oppure potreste voler magari realizzare la fotografia su sfondo nero invece che su sfondo bianco insomma non deve essere uguale al mio diciamo che questa è una guida di base per cercare di capire alcuni aspetti che possono essere molto utili quando si realizza fotografia di un oggetto riflettente di questo tipo come vi dicevo ho aggiunto una luce alla volta e sono un po deluso perché mi sono proprio reso conto mentre posizionavo le luci che non riuscivo a fermarmi nel senso spesso e volentieri mi capita di dire realizzo il mio set magari con due luci con una luce sola alle volte quando ci riesco per esempio per fotografare un bicchiere si riesce anche con una luce sola si fa la retroilluminazione con due cartoncini e la foto del bicchiere più o meno viene perché il bicchiere ha un tipo di trasparenza diversa quindi si è facilitati in questo caso nel caso della bottiglia che oltre a essere più grande non è così tanto trasparente non sono riuscito a lavorare così agevolmente quindi ho dovuto aggiungere all'inizio ho messo le due luci con i miei street box per fare la silhouette e quello già mi dava un buon effetto ho aggiunto una luce per illuminare lo sfondo e questo già mi dava un ottimo risultato di trasparenza della bottiglia quindi ho provato successivamente a usare uno snoot per illuminare la bottiglia in trasparenza ma mi sono detto che non ce n'era nemmeno bisogno perché era sufficientemente illuminata dalla mia luce sullo sfondo a questo punto però mi sono detto qui sono un po deluso perché innanzitutto ho già messo tre luci e non ci siamo ancora devo mettere la quarta luce quindi ho posizionato una quarta luce che era il beauty dish che sto utilizzando in questo momento quindi una luce con un modificatore circolare che non va bene ovviamente però andava benissimo per fotografare un'esposizione corretta dell'etichetta della bottiglia quindi una volta realizzato il mio set quello che ho fatto è che ho posizionato il quarto cavalletto con la quarta luce flash di fronte alla mia bottiglia ho realizzato uno scatto con questa luce accesa subito dopo l'ho spenta ho realizzato un secondo scatto con la luce spenta quindi un primo scatto dove ho illuminato l'etichetta della mia bottiglia e il basamento su cui poggia la mia bottiglia perché questa luce con il beauty dish ha illuminato tutto quello che è il davanti il primo piano della mia foto con il secondo scatto ho spento il beauty dish ho fatto un secondo scatto dove erano illuminati correttamente lo sfondo e la silhouette della bottiglia e questo dava anche la trasparenza che volevo al vetro della bottiglia quindi con due scatti e poi con un minimo di post produzione perché a questo punto si tratta veramente soltanto di dare una pennellata come andremo a vedere successivamente con due scatti si riesce a portarsi a casa una fotografia che è assolutamente vendibile come potete vedere ho anche utilizzato una bottiglia fresca di frigo quindi ha sulla condensa naturale che è vera non ho usato lo spruzzino perché comunque dà un effetto diverso si vede quando c'è la condensa vera che è un pochettino più fuliginosa rispetto a quando c'è lo spruzzino che si vedono proprio le gocce grosse è proprio diverso l'effetto quindi ho preferito optare per una soluzione di questo tipo ovviamente sono tutti esperimenti potete farlo con la bottiglia a temperatura ambiente se non volete rischiare dei cambiamenti durante perché ovviamente la bottiglia fresca di frigo si modifica durante quindi la sua opacità e il suo strato di condensa si modificano nel tempo quindi farete fatica a fare delle foto uguali durante tutto lo shooting se volete fare un'esposizione multipla fate fatica perché l'esposizione multipla si basa sul fatto che la bottiglia rimanga sempre uguale e se la condensa cambia tra uno scatto e l'altro non avrete più la stessa condensa e quindi farete fatica a miscelare le due immagini nel mio caso ho realizzato gli scatti in rapidissima successione perché il set era già pronto quindi ho scattato la prima volta ho spento il beauty dish ho scattato la seconda volta e quindi la condensa è assolutamente uguale uniforme attraverso i miei due scatti non è uguale uniforme attraverso tutto lo shooting perché comunque ci ho lavorato come vi dicevo per un'oretta sulla bottiglia prima di riuscire a trovare il risultato che volevo ho provato anche a invertire i modificatori ovvero a mettere lo snoot sullo sfondo per avere uno sfondo con un pochettino più di gradiente che mi andasse quindi a sottolineare la bottiglia l'effetto che ne è venuto fuori non è spiacevole però non è esattamente quello che avevo in mente diciamo che per avere esattamente quello che avevo in mente avrei dovuto puntare lo snoot direttamente dietro alla bottiglia per avere il gradiente circolare visto il set che avevo costruito non avevo lo spazio sufficiente per farlo in questo momento avrei dovuto spostare tutto quanto quindi ho preferito non farlo e quindi vi porto una foto che ha semplicemente uno sfondo bianco che alla fine è quello che vi verrà richiesto la maggior parte delle volte perché quando bisogna mettere una bottiglia su un e-commerce o comunque su un sito quello che viene chiesto è la foto della bottiglia pulita quindi senza gradienti senza niente oltretutto con un semplice scontorno è possibile mettere un gradiente in post produzione quindi non mi sento di aver perso chissà cosa non essendo riuscito nel mio intento di utilizzare lo snoot per questa particolare funzione ora la cosa bella di costruire un set come questo ovviamente è che nel momento in cui l'abbiamo allestito possiamo una volta che abbiamo terminato possiamo spostare il nostro prodotto e possiamo andare a collocare un altro prodotto esattamente nello stesso punto e siamo pronti per realizzare in serie degli scatti di fotoprodotto di tutti i prodotti che vogliamo in particolare io vi faccio vedere una prova che ho fatto con questa lattina ho comprato questa lattina apposta per fare questo esperimento e nel prossimo video vi saprò anche dire se la bibita al suo interno mi è piaciuta perché non la conosco assolutamente quindi sarà un test che andrò a fare per voi come potete vedere il set è sostanzialmente lo stesso quello che ho fatto è che ho preso il cavalletto con la mia fotocamera e mi sono avvicinato al mio prodotto perché questa è una lattina quindi è più piccola della bottiglia per cui per avere un frame coerente mi sono avvicinato con la fotocamera stavo usando il mio muletto che è la Canon EOS 700D con il 50 mm f1.4 una lente che uso molto molto spesso per fare fotoprodotto perché essendo una lente prime mi dà una bella nitidezza la lunghezza focale effettiva sul mio sensore aps c è quella di un 80 mm quindi adattissima a fare fotografia di prodotto la distanza di messa a fuoco non mi crea particolari problemi oltretutto è una lente corta che pesa poco se io stessi facendo lo stesso esatto tipo di scatto con la mia EOS 7D con il 100 mm macro è una combinazione che io adoro io amo quella lente però ha un difetto che nel momento in cui io vado a metterla su cavalletto e la tilto in verticale quella lente pesa così tanto che a volte mi sposta la camera quindi lì è proprio questione che non importa quanto forte io abbia stretto la vite certe volte il peso della lente mi fa muovere la camera in avanti per questo motivo io cerco di evitare le lenti lunghe nel momento in cui sto scattando in verticale quindi vado a utilizzare questa camera con la lente più corta non mi crea nessun problema farlo anzi lavoro meglio perché posso stare in uno spazio più ristretto l'effetto finale è esattamente lo stesso però oltretutto ho il vantaggio che la mia camera rimarrà perfettamente ferma è un obiettivo che pesa poco e quindi non porterà tutta la mia camera a imbarcarsi in avanti quindi questo è un vantaggio aggiuntivo assolutamente non trascurabile perché poi dipende dal cavalletto che stiamo usando questo cavalletto manfrotto che stavo utilizzando è molto molto buono e non mi ha mai dato questo tipo di problema l'ho avuto su altri tipi di cavalletto ma preferisco evitare se posso così lavoro più tranquillo e sono più sereno molto bene amici eccoci qui all'interno del modulo di sviluppo di lightroom la prima cosa che andiamo a fare ovviamente andiamo a importare le nostre immagini per cui andiamo a cliccare sul tasto import ecco qui la nostra memory card che già ci mostra le nostre immagini ora io vado a selezionare solamente le immagini che mi interessano ovvero tutte le immagini del mio set still life nel momento in cui io vado a importare delle immagini gli devo anche dire che cosa deve fare ovvero deve copiarle sul mio computer oppure deve aggiungerle oppure deve copiarle come dng in questo momento io gli dico copia perché voglio che esistano delle copie fisiche di queste immagini sul computer in questo modo posso eliminarle dalla mia scheda di memoria e gli vado a dire importa ora come vi dicevo a me non interessa tantissimo farmi farvi vedere ogni singola foto mi interessa solamente riassumere i tratti salienti dello shooting dopo che il set è stato montato come avete visto in precedenza sono state realizzate alcune prove questa qui è la bottiglia come si presenta con la luce ambientale quindi come potete vedere questo qui è il riflesso della finestra questa qui è una torcia flash che avevo posato dietro quindi era un set assolutamente in divenire oltretutto la foto come vedete è storta successivamente sono state fatte diverse modifiche per cui siamo arrivati ad avere la mia bottiglia con la retroilluminazione corretta come potete vedere abbiamo già una sorta di accenno di bagliore all'interno della bottiglia abbiamo il nostro riflesso sulla nostra superficie riflettente ovviamente la bottiglia è assolutamente scura ho provato da prima a schermare la luce della finestra vedete questa qui è una tavola di compensato che ho posizionato sulla destra della mia bottiglia in maniera tale da schermare il riflesso indesiderato questo primo riflesso che potete vedere è lo strip box che è stato collocato per primo alla sinistra della bottiglia questo qui è il mio snoot con cui sono andato a illuminare all'interno del corpo della bottiglia questa soluzione però generava un'ombra che non mi piaceva quindi ho deciso di accantonarla sono anche andato a utilizzare lo snoot direttamente a contatto con la bottiglia però come potete vedere il risultato non mi dava una variazione così significativa da volerla mantenere sono per cui andato avanti per la mia strada ho fatto una serie di esperimenti qui come potete vedere stavo utilizzando il beauty dish per illuminare correttamente il frontale dell'etichetta inoltre avevo aggiunto il secondo strip box che mi faceva il riflesso sull'altro lato della bottiglia quindi abbiamo il riflesso da una parte e il riflesso dall'altra parte ovviamente non sono perfettamente simmetrici perché li ho posizionati meglio in seguito andiamo a vedere che ho realizzato anche delle prove con lo snoot sullo sfondo quindi questo è un esperimento che reputo abbastanza interessante vedete che abbiamo lo snoot che illumina lo sfondo dando una sorta di effetto bagliore quasi una fiammata sul muro alla nostra bottiglia e abbiamo comunque un bagliore all'interno che in questo caso è molto più lineare quindi è un effetto completamente diverso con un suo interesse sicuramente che non escludo che potrei anche utilizzare per qualcosa anche se alla fine ho deciso di optare per un altro set di immagini come potete vedere ho fatto la mia doppia esposizione quindi in questo caso abbiamo una prima esposizione che serve per generare la silhouette sui due lati della bottiglia e il bagliore all'interno e una seconda esposizione che serve quasi esclusivamente per il frontale dell'etichetta quindi tutta questa parte con questo riflesso indesiderato verrà rimossa in post produzione per lasciare questo bagliore che è molto più accattivante l'etichetta della bottiglia verrà illuminata vi farò vedere successivamente come ma verrà illuminata tenendo il livello con metodo diffusione illumina e andando a pennellare sull'area in maniera tale da portare fuori i dettagli che vogliamo procediamo e vi faccio vedere come si è evoluta la nostra foto in questo caso vedete che sono andato a spostare il mio strip box per andare ad avere i riflessi completamente simmetrici sui due lati della bottiglia quindi in questo caso missione compiuta con il minimo sforzo successivamente qui vedete che ho rimosso lo snut sono tornato ad avere una soluzione con il riflettore semplice sullo sfondo che quindi mi garantisce uno sfondo abbastanza uniforme a causa della legge dell'inverso del quadrato vedete che qui vediamo un po di muro perché abbiamo l'esposizione corretta al basso della mia immagine mentre man mano che saliamo cominciamo a vedere un pochino di muro qui sarà necessario fare un pochino di post produzione e andremo a rimuovere questo muro e a rendere tutto il nostro sfondo bianco esattamente come lo vogliamo ci avviciniamo ai passi finali perché qui stavo veramente facendo gli ultimi ritocchi qui si tratta fondamentalmente della foto finita per cui arriviamo alla fine e ci troviamo con queste due immagini sostanzialmente dove nella prima abbiamo modificato il bagliore sullo sfondo in maniera tale da avere un po di pienezza su questa bottiglia qui vedete che abbiamo un riflesso bello pieno all'interno che ci permette di vedere proprio il colore del contenuto della bottiglia nel secondo scatto abbiamo questo riflesso che è assolutamente indesiderato ma che ci permette di avere l'etichetta esposta correttamente quindi andando a unire questi due scatti avremo esattamente la fotografia che volevamo quindi questi due saranno gli scatti finali a questo punto io me li segno mettendogli una bella stellina metto una votazione di 5 su 5 a tutte e due così mi ricordo che queste due sono le immagini che ho deciso di utilizzare successivamente vediamo un po cos'altro avevo fatto no allora forse sono queste due le immagini finali vediamo una bella valutazione di 5 su 5 anche a queste due e andremo a fare un doppio export subito dopo come vi dicevo ho fatto una prova anche con una lattina quindi una lattina di una jack daniels tennessee whisky cola che non conosco che fondamentalmente è una birra all'whisky mi sembra di capire una cosa del genere quindi ha una percentuale di alcol 33 cl andrò anche ad assaggiarla nel prossimo video vi racconterò com'è potete vedere in questo set di immagini che ho realizzato una doppia esposizione anche in questo caso qui sarà ovviamente necessaria un po di post produzione e avrei potuto sicuramente comporre meglio l'inquadratura ma questo scatto mi serviva per farvi vedere che una volta allestito il nostro set noi abbiamo la possibilità di fotografare diversi oggetti con lo stesso set e avremo pressoché lo stesso risultato quindi questa è una soluzione molto utile nel momento in cui si vogliono realizzare fotografie in serie quindi di diversi prodotti o di stock di prodotti che devono avere esattamente la stessa illuminazione e lo stesso stile ora una volta che abbiamo scelto il nostro set di immagini in questo caso sono due quindi vi dicevo sono un po deluso per non essere riuscito a fare tutto con una singola immagine oddio forse io potrei anche ricavare l'intero scatto da questa singola foto andiamo nel modulo di sviluppo di lightroom e scopriamolo la prima cosa che facciamo selezioniamo le nostre immagini gli andiamo a dare il nostro preset per la nitidezza io questo lo do sempre alle mie immagini sia che stia usando lightroom sia che stia usando camera raw e questo mi garantisce la nitidezza che voglio attraverso tutta la mia immagine queste sono immagini scattate a f8 quindi è abbastanza a fuoco dall'inizio alla fine la mia bottiglia ovviamente era quello che volevo una volta che abbiamo fatto questa correzione andiamo a fare su entrambe le immagini quindi andiamo ad applicare questo preset uguale su entrambe le immagini applicherà in automatico anche il nostro predefinito per la correzione della lente quindi avremo un po di correzione dell'aberrazione cromatica e un po di calibrazioni del profilo lente quindi avremo meno distorsione sul 50 mm già è poca ma così la rimuoviamo del tutto una cosa molto importante che andiamo a fare a questo punto è che raddrizziamo la nostra immagine quindi abbiamo il pannello trasforma e qui andiamo a selezionare questo bottone su cui andiamo poi vedete che si trasforma in un puntatore andiamo a cliccare e trascinare in maniera tale che abbiamo una linea dritta per la nostra bottiglia e un'altra linea dritta per l'altro lato della nostra bottiglia in questo modo andiamo a raddrizzare la bottiglia ad averla perfettamente dritta andiamo poi a generare un'altra linea per raddrizzare l'orizzonte in questo caso vedete che io ho sbagliato perché ho lasciato andare troppo presto quindi vado a correggere quello che ho fatto perfetto in questo modo il mio orizzonte è perfettamente corretto adesso quello che devo fare è che devo andare a copiare queste impostazioni compresi gli effetti della trasformazione e devo andare ad applicarli anche sulla mia seconda foto quindi vado a dirgli incolla ed ecco che le mie foto nuovamente sono perfettamente allineate se sbaglio questo passaggio poi ovviamente quando le vado a esportare non riesco più a miscelarle come vorrei perché non sono più perfettamente allineate quindi è assolutamente importante fare correttamente questo passaggio a questo punto come vi dicevo io riuscirei forse a ricavare la corretta esposizione per l'etichetta anche da una singola esposizione quindi io potrei andare a prendere un pennello potrei andare a lavoriamo con un pennello neutro potrei andare a lavorare con un pennello che espone diversamente una certa area e quindi potrei andare pennellando qui in mezzo a raggiungere più o meno il grado di esposizione che voglio per l'etichetta della bottiglia in effetti credo che sarebbe possibile perché una cosa del genere secondo me è assolutamente accettabile siamo passati da questo diamo il prima siamo passati a questo che è il dopo quindi questa potrebbe essere una soluzione assolutamente accettabile però io voglio lo stesso farmi vedere come sarebbe miscelare le due esposizioni in photoshop perché questo era il mio piano originario quindi procederemo in questa maniera a questo punto io vado a esportare le mie due immagini ora normalmente si può esportare tranquillamente in formato jpeg ma siccome io so già che dovrò lavorare queste immagini vi dico che le esporto in formato psd e mantengo una profondità colore di 16 bit con uno spazio colore adobe rgb 1998 in questa maniera sarò più incisivo e più preciso nelle modifiche che andrò a fare perché avrò a disposizione un file che si lascerà maltrattare un pochino di più andiamo a esportare le nostre due immagini e ci vediamo all'interno di photoshop bene eccoci qui all'interno di photoshop siccome so benissimo che come me siete persone che hanno fretta vi ho già aperto qui entrambe le immagini ora noi andiamo con lo strumento sposta a prendere una delle due immagini andiamo sul secondo pannello teniamo premuto il pulsante shift in questa maniera l'immagine viene incollata esattamente in posizione come potete vedere le due immagini si sovrappongono perché sono state scattate a pochi secondi una dall'altra quello che mi premeva farvi vedere è come noi possiamo andare a impostare metodo di fusione lighten che in italiano mi pare sia schiarisci questo metodo di fusione serve a portare fuori solamente le luci della nostra immagine quindi avremo un'immagine che presenterà le luci e le ombre del livello sottostante e solo le luci del livello soprastante in questo caso come potete vedere la differenza è questa abbiamo questo grosso riflesso qui in mezzo che dobbiamo assolutamente rimuovere mentre tutto il resto va assolutamente bene quindi la cosa da fare è sicuramente mettere una maschera sul livello sopra a questo punto possiamo procedere in due modi sono due scuole di pensiero che sono parimenti valide possiamo invertire la nostra maschera e a questo punto con un pennello di colore bianco con magari con un'opacità non troppo pronunciata andiamo a pitturare in maniera tale da rivelare le aree dell'etichetta che vogliamo portare maggiormente fuori questa è una cosa che è assolutamente valida e vi posso dire che potrebbe benissimo offrirci la soluzione che stiamo cercando perché una cosa di questo tipo per quanto mi riguarda è già più che soddisfacente quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente portato fuori la seconda esposizione nei punti dell'etichetta che secondo noi ne avevano maggiormente bisogno possiamo andare a vedere se vogliamo illuminare un pochino anche questo stemma però come vedete ci portiamo dietro tutto quel riflesso e non lo vogliamo quindi secondo me non andremo a illuminare più di tanto questo questo stemma che tanto non è il focus del nostro prodotto quindi quello che abbiamo realizzato è semplicemente questo andiamo a zoomare vi faccio vedere al cento per cento come sono venuti i dettagli come potete vedere abbiamo i nostri due riflessi che sono pressoché perfettamente simmetrici su tutta la bottiglia come potete vedere abbiamo la nostra condensa che è reale quindi ha una sua texture che è assolutamente casuale e non ragionata ed è proprio questo quello che volevamo qui c'è una goccia che si è generata spontaneamente e questo è un po il valore aggiunto dell'utilizzare la condensa reale rispetto allo spruzzino quindi è una condensa che si vede che è vera volevo un effetto esattamente di questo tipo per questo shooting come potete vedere si vede in trasparenza il colore della bottiglia questa luce proviene dal riflettore che avevamo posizionato sullo sfondo i contorni della bottiglia sono abbastanza netti quindi non abbiamo esagerato con la luce sullo sfondo ma è assolutamente corretta abbiamo il nostro riflesso abbiamo anche un accenno di ombra perché la luce che avevamo posizionato i due street box hanno comunque generato un po di ombra sopra il nostro acrilico questa è una cosa che io tenderei a trascurare perché in uno shooting di questo tipo possiamo assolutamente tollerare un'ombrettina di questo tipo se la volessimo rimuovere potremmo andare semplicemente a scontornare la nostra bottiglia e andare a applicare un livello di regolazione curve per andare a schiarire solamente le aree desiderate questo è l'effetto che volevamo ottenere tuttavia esiste un altro modo di ottenere lo stesso effetto duplichiamo il nostro livello e ripartiamo da capo quindi io vado a eliminare questa maschera vado a crearne una nuova a questo punto io vado a prendere un pennello però questa volta inverto i colori quindi ho il nero come colore e vado questa volta a cancellare quello che non voglio quindi sono i due schemi assolutamente contrapposti complementari ma contrapposti nel primo caso sono andato a illuminare solamente la parte dell'etichetta che volevo illuminare in questo caso faccio il contrario vado a cancellare la porzione che non voglio vedere che è sostanzialmente la porzione centrale adesso vado ad aumentare l'opacità del mio pennello e a diminuirne lo spessore voglio proprio eliminare tutti questi riflessi in centro che non voglio vedere assolutamente per niente quindi vado a eliminare tutta questa roba e così ho ottenuto un risultato uguale ma diverso perché in questo caso la mia etichetta sarà più brillante l'area centrale invece sarà pressoché identica differenza fondamentale tra queste due impostazioni è che nel primo caso il muro in alto rimane un pochettino più scuro mentre nel secondo caso ho una bella schiarità anche sul muro in alto quindi questa cosa può essere utile anche per questo io potrei anche utilizzarle in combinazione ovvero in questo modo e quindi sarei passato da questa immagine a questa immagine francamente credo che questa potrebbe benissimo essere l'immagine finale io a questo punto andrò a diminuire un pochino l'opacità della mia prima correzione sull'etichetta quindi andrò a dargli 60 per cento di opacità forse anche 50 e quindi questo è il nostro risultato finale ci tenevo a farvi vedere una lavorazione di questo tipo perché come vi ricordo abbiamo ottenuto questo risultato in soli due scatti quindi questo è il procedimento con cui si ottiene una foto di una bottiglia ben fatta come questa è un procedimento assolutamente replicabile perché nel momento in cui noi abbiamo terminato possiamo sostituire questa bottiglia con un'altra e in due scatti ottenere esattamente la stessa cosa possiamo poi andare a implementare i processi di post produzione in maniera tale da applicare le stesse modifiche in lightroom a tutte le bottiglie esportarle tutte e poi all'interno di photoshop non dobbiamo fare altro che prendere una delle due foto metterla sopra all'altra dare una pennellata ed ecco qui la nostra bottiglia finita e perfettamente immortalata con il suo bel riflessino sopra il nostro pannello di acrilico che è pronta per essere utilizzata per tutti gli usi più disparati per cui il cliente può avercela commissionata. Beh amici che dire realizzare fotografie di oggetti riflettenti in particolare di bottiglie contenenti della birra è una delle cose che mi piace di più del mio lavoro perché è una sfida è una cosa sempre divertente e interessante oltretutto c'è il vantaggio che una volta terminato uno se le beve queste bottiglie quindi è veramente una soddisfazione il risultato finale dovrebbe essere all'altezza di qualsiasi cliente nel senso che dovrebbe essere all'altezza di un e-commerce di un catalogo o di qualsiasi fosse la richiesta che vi è stata commissionata ovviamente se la richiesta era quella di una fotografia semplice di una bottiglia su sfondo bianco se la richiesta era di una fotografia ambientata dovremmo andare a lavorare in maniera simile ma con uno sfondo adeguato perché la fotografia venga considerata ambientata i suggerimenti che vi ho dato oggi rimangono in gran parte validi anche in quel caso è il momento di essere generosi con le vostre dita lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se i suggerimenti vi sono sembrati utili fatemi sapere se realizzate dei set fotografici di questo tipo se avete trovato utile uno qualcuno o nessuno dei suggerimenti che vi ho dato in questo video fatemi anche vedere le fotografie che realizzate sono curioso di vedere se l'input che ho dato io vi porta a realizzare la stessa foto o una cosa completamente diversa e che dire ci vediamo nei commenti per chi ne avrà voglia e per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo video per cui vi consiglio di iscrivervi adesso a questo canale in maniera tale da non perdervi i prossimi episodi vi ricordo che al raggiungimento di un milione di like su questo video arriverà un altro tutorial molto molto succoso dove vi farò vedere i prossimi step per implementare le vostre skill nella realizzazione di fotografia di prodotto su oggetti riflettenti grazie a tutti